Nel segno dell'industria e dell'artigianato, nel segno di Maurizio Valenzi, il sindaco che guidò Napoli dal 1975 al 1983. Inaugurata la mostra fotografica Napoli Eccellente, l'imprenditoria che innova si racconta alla città, organizzata dalla Fondazione Valenzi con il contributo della Camera di Commercio Partenopea. Un progetto giunto alla seconda edizione, rivolto alla promozione nazionale ed internazionale delle eccellenze imprenditoriali, che nell'anno appena trascorso hanno dimostrato di aver affrontato la crisi nel segno dell'innovazione di prodotti e processi di realizzazione. 23 le imprese raccontate nella mostra fotografica. Ai nostri microfoni l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele. Credo che sia molto importante che questo l'abbia fatto la Fondazione e la Fondazione Valenzi, perché toglie anche quel sospetto che vi può essere che le istituzioni o le rappresentanze politiche tendano a mettere l'accento su aspetti positivi per in qualche modo sottacere le difficoltà e i problemi. Credo che invece fatto da istituzioni del privato sociale, questo assume anche un maggior elemento di testimonianza positivo, perché è fondato su un'affidabilità su cui non può perlomeno gravare un pregiudizio.